Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e come sempre prima di iniziare voglio ringraziare e dare tutti l'odi dovuto al Padre Yahweh nel nome di suo figlio e nostro re Rendentore e Salvatore Yahweh Shai. Ok, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e come sempre miei saluti e pace alla Casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano la verità e a coloro che fanno spaggere e arrivare questo messaggio ai quattro lati della terra. Ok, shalom. La lezione di oggi sarà basata sulla chiesa di Gesù Cristo degli ultimi santi, così chiamati i mormoni. Ok, questa lezione è molto importante perché anch'io in passato facevo parte di questa chiesa qui, perciò conosco molto bene questa chiesa e conosco molto bene come opera. Ok, sono arrivato anche al punto di diventare il secondo consigliere al vescovo per il ramo che andavo, ero l'archivista, perciò è una chiesa che conosco bene. E non mi tornavano delle cose quando il padre ha cominciato ad aprirmi gli occhi per farmi vedere la verità, ok, che è fuori da qualsiasi chiesa. Ma visto che tanti credono che questa chiesa è la vera chiesa, e ora vi farò vedere che non è una vera chiesa, la vera chiesa non esiste, la vera chiesa siamo noi, ok. La verità è la verità vive dentro il corpo di coloro che la portano e loro insieme, messi assieme, fanno la chiesa, ok. E comunque sono stato anche nel tempio, ho fatto delle ordinanze nel tempio, lì dove mi è venuto un sacco di dubbi, ok, perché tutto ciò che facevano non era diverso da come facevano i massoni, ok. Perché anche prima ho avuto qualcosa a che fare con i massoni, non sono entrato in profondità, grazie al padre, ma mi voleva comunque appunto fare vedere un po' queste cose qui, ok. Come dice le scritture, i giusti cadono sette volte e si rialzano, ok. E io sono caduto in tante menzioni e in tanti anni, diverse credenze e poi tutto questo era per prepararmi, per avere la verità che ho oggi. Inizio, ok, direttamente, facendovi tiro fuori un po' di punti da questa chiesa, infatti prima di tutto qui vedete con lui Lui che ha creato la chiesa si chiama Joseph Smith, ok, e lui dice di aver avuto questa visione di aver, no, dice che Dio padre e figlio si sono apparsi a lui E l'hanno dato l'ispirazione di aprire la chiesa e tutto, ma vi dico lui, se andate a leggere sulla sua biografia era un massone, ok, era un massone, un vigliacco anche E questo è il suo successore, come vedete qui, e vedete qui che lui c'ha proprio addosso il coso, il segno dei massoni Questo è il gran segno dei massoni, infatti se scrivo qui, per esempio Si chiama il coso dei massoni, i massoni, scrivo i massoni I massoni, ok, immagini E allora, no, diciamo i, scusatemi che devo trovare il termine giusto Come si chiama quella cosa, la, i square Allora, scrivo square Eccolo qui Vedete, questo segno che vedete qui, è un gran segno dei massoni, no, ok, è quello che trovate qui Se guardate bene, ok Ma tutto questo, non per dire, questo è un famoso tempio dei, dei mormoni, ok Che sono così chiamati Gesù, la chiesa di Gesù degli ultimi tempi Vedete queste stelle, ok, sono, rappresentano le stelle sataniche, ok E che cosa hanno bisogno di questo occhio che vede tutto E il sole, ok, e tutto vi porta comunque nel paganismo Questo è un tempio, il famoso tempio a Salt Lake City E su questo tempio troverete tutti questi segni satanici Che sono alla fine dei segni dei massoni, ok Che cosa ha la luce a che fare con i tenebre, ok E qui vi leggo velocemente Dal libro di Scusatemi un attimo Leggo dal libro di Atti Scusatemi Sono un po' lento oggi Atti capitolo 7 Versetto 48 L'Altissimo però non abita in edifici fatti Da mano d'uomo Come dice il profeta, ok Il cielo è il mio trono E la terra lo sgabbello dei miei piedi Quale casa mi costruirete? Dice il Signore Yahweh O quale sarà il luogo del mio riposo? E loro ci credono troppo in questi edifici qui Hanno le chiese Poi hanno i tempi E più profondo Più anni stai nella chiesa Più fai vedere la tua lealtà A loro Ok Ti fanno entrare nel tempio E nel tempio ci sono stato Ti fanno vedere questo filmato Che non è tutto altro che un lavaggio Un bel lavaggio di cervello Dove ti dicono che l'Adamo era Era un angelo Michele Che non è nulla di così Ok? Se volete saperne di più Del libro di Genesi Basta che andate a guardare i video che ho fatto in passato Riguardo il libro di Genesi E si fanno i battesimi là Hanno tutto fatto bello Cioè fanno questi diversi riti No? Anche di sposarsi Nell'eternità Delle cose che non esistono Nelle scritture Ed è pieno di tutti i segni Massoneria Ok? Anche come si vestono nel tempio Con... Sì Proprio come si vestono i massoni Vi faccio vedere un esempio Ora non vediamo Come si dice Il... Apron Ecco Vedete come si è vestito qui? Loro si vestono così Più o meno I maschi Con questa roba qua Attorno Ok? Questa roba è molto importante Nel tempio Dei mormoni Perciò vedete che È tutto legato alla massoneria Tutto perché Vedete Questa è una foto Ok? Cosa hanno a che fare con il sole? Sapete che i pagani adorano il sole No? I dei sole E questa è una porta Del loro tempio E vedete tutti i segni Di tutti i pianeti E queste robe varie Ok? Hanno tutte queste cose qui Proprio uguale come fanno I massoni E questa stella qui Se non capite che cosa è Basta venire Qui e scrivere La stella La stella La stella Baphomet Ok? E vi fa vedere È questo È satanismo È proprio satanismo È satana Abbiamo fatto anche Abbiamo fatto anche Il video in passato Basta andare a vedere Il video sulla farmacia Ok? I segreti della farmacia E ne saprete Molto di più È questo che vedete Nella loro chiesa Questa stella qui Avete visto che è la stessa cosa Questa stella È questa Avete visto? Questo è un tempio Dei mormoni Lo vedete Per l'ennesima volta Questo è il tempio Della Nauvoo Ok? Perché hanno i tempi D'appetuto I loro problemi Sono i tempi Li costruiscono Bellissimi Enormi Fanno tutto Dentro Ok? E questo segno Come vedete Ha a che fare Con Il segno Andiamo a vedere Un attimo Vi faccio vedere Indian Vagina Worship Non mi ricordo Ecco qui Avete visto? Questo è un È paganissimo È un rito Che fanno Indiani Che alla fine È il rito Della vagina E loro Adorano La vagina La vagina Ok? Vedete questa roba Qui Che vedete Qui Clicco qui E andiamo a vedere Se trovo Altre foto Ok? Espandi Ok? Vedete comunque Com'è Questo sarebbe Eccolo Vedete Questi segni Qui E loro Vi li mettono Nella chiesa Vedete È la stessa cosa Qui Ma fatta Forma Così Coloro Che non Non hanno Gli occhi Per vederlo Non lo vedranno Non lo riusciranno A capire Questa stessa cosa È questa Ok? E questo Comunque È Un archivio Nella chiesa Che Che portano Diciamo Diverse cose Ma questo Non posso dire Nulla Perché non so Molto bene Di questo È un articolo Che ho scaricato Dunque E Andiamo A vedere Loro Questo è dentro Il tempio Quando cantano Con i cori Anzi Scusatemi Non è il tempio Questa è la sala Di conferenza Ma penso Che Si Si trova Anche Vicino Al tempio La De Great Salt Lake Ok? Scusatemi Vado a vedere Quella breve video Per farvi vedere Come fanno I massoni Allora E vedete Com'è costruito Vedete Com'è costruito Dentro Andiamo a vedere I massoni Come sono E vedete Proprio La similitudine Tra queste due Religioni Ho visto Che Sono simili Troppo simili La massoneria I seguitori Di Satana E I mormoni La chiesa Degli mormoni Ed ecco qui La lista Di tutte Le sette Di cristianesimo La chiesa Battista È creata Da questo uomo Qui Vedete Una cosa In comune Sono tutti Degli Edomiti Ok? Sono tutti Degli Edomiti E vedete Che gli anni Che sono stati Costruiti Sono Sono tanto Lontano Dall'uno Ok? Anche quello Di Geova Witness Ok? Testimone Di Geova Questo qui Faceva parte Della chiesa Dei mormoni Si è staccato Ed è andato A creare La sua chiesa De Geova Testimone Di Geova Ok? Ora Andiamo a vedere La scrittura Dei mormoni Perché i mormoni Hanno un libro Che si chiama Il libro Di mormon Ok? E ho trovato Questo articolo Si trova su questo sito Mormon Wordpress Che mi è piaciuto Perché hanno messo Un bel insieme Di tutto quello Che avevo bisogno Invece andare Su e giù Ok? E andiamo a leggere Un po' Non leggiamo tutto Allora I mormoni Quando erano Stati Costruiti Diciamo Quei anni Là Nel 1978 Ok? Loro Non lasciavano Non lasciavano Che I schiavi Ok? I negri Quelli Che sono stati Portati In America Ok? Anche I nativi Americani Non li Non potevano Appartenere A grandi Posizioni Nella chiesa Tipo Loro Credono Che loro Non possono Avere Il sacerdozio Non possono Avere Le stesse Benedizioni Come I figli Dei Caucasi Ok? E infatti I veri Ibrei Sono coloro Che sono stati Portati In schiavitù In America Che sono I negri Nativi Americani E i così Chiamati Latini Ok? Sono Quelli I veri Fili D'Israele Ok? E loro Hanno fatto Un bel po' Con La schiavitù Con questa gente Qui Hanno avuto Schiavi Che li hanno Costruito I primi Le prime Chiese Andiamo a vedere Questa cosa Qui Allora Leggiamo Qui Questi Sono Ok Dai giorni Del profeta Joseph Smith Ok? Fino ad ora È stata la dottrina Della chiesa Ma è messa in discussione Dai dirigenti Della chiesa Che i negri Non hanno dritto A tutte le bellezioni Del Vangelo Ok? E questo si trova Proprio In un libro Della prima presidenza Della chiesa Ok? L'atteggiamento Della chiesa Non Con riferimento Ai negri Rimane come Sempre Ben distinto Non è una questione Di creazione Di una politica Ma di diretto Comandamento Del Signore Su quale Si fonda La dottrina Della chiesa Dai giorni Della sua organizzazione E cioè Che i negri Possono diventare Membri della chiesa Ma che Non hanno diritto A sacerdozio Nel tempo Presente Ok? Avete visto La gravitudine Di questa cosa Qui E loro Credono Che i negri Sono Una razza Inferiore Che I padri Non tratta Con loro Ok? E Infatti Dentro La scrittura Loro C'è Il secondo libro Di Nefi Che andremo a vedere Prima voglio farvi Sentire Proprio Dalla parola De Joseph Smith Con lui Che ha messo In piedi Questa chiesa Qui Ho appresso Con estremo Rammarico Che un articolo Intitolato Libera La gente Di colore Nell'ultimo numero Della stella È stata Fraintesa E ci sentiamo In dovere Di stato Di chiarire Che la nostra Intenzione Non era solo Di fermare Le persone Libere Di colore Di emigrare In questo stato Ma di impedire Loro Di essere Ammessi Come membri Della chiesa Ok I negri Non erano Ammessi Come membri Della chiesa Fino a Tanti anni Dopo Fino a Diciamo Pochi anni Fa Ok E dovete sapere Se andate a vedere La storia Di questo Signore Qui Joseph Smith Che ha Fondato La chiesa Vedrete Che Erano Un tirano Era un tirano Forte Ok Un tirano Forte Ok E c'è Una cosa Che hanno fatto In Mormone Che si chiama Il massacro Hanno massacrato Dei nativi Americani Che avevano La terra E li hanno Posseduto La terra Ok Vado a vedere Questa cosa Se riesco A trovarvelo Non volevo Rendere Sto video Lungo Di Mormon Massacre Ecco E' una cosa Molto conosciuto Ok Il massacro Della montagna Medos Andate a leggerlo Ok Questo Questo sono I mormoni Hanno fatto questo Ok Hanno massacrato Dei nativi Americani Che avevano Quella terra Là Che erano I figli Di Israele Veri E li hanno Posseduto I cosa Andiamo Comunque A leggere Di più Ok Questo È Brigham Young Così Questo qui Che vi ho fatto vedere Che è il suo secondo Questo qui Che è Brigham Young Vedete Che faccia Ha Faccia da tirano Vedete Erano Erano proprio Tirani Questa gente Che hanno fondato Questa chiesa Lui dice Vuoi che ti dica La legge di Dio Per quanto riguarda La razza africana Se l'uomo bianco Che appartiene Al seme scelto Mescola il suo sangue Con il seme di Caino Loro credono Che gli africani Sono I africani Sono I seme di Caino La pena Secondo la legge Di Dio È la morte Supposto Questo sarà Sempre così Ok E ciò Questo è per voi Fratelli Che siete nella chiesa Che siete Che appartenete Alla casa di Israele Ok Fili dei mori Ok Vi state solamente Prendendo in giro Andando in quella chiesa Ok Perché sono così Tanto falsi Ho fatto parte Di quella chiesa Vi ridono davanti Vi ridono davanti Ma Dentro il cuore Sono dei diavoli Ok Sono dei diavoli È una chiesa Per i bianchi Per i figli di Esau E poi andremo a vedere Nelle scritture Ok Se hanno ragione Di queste cose qui Ok E ce ne sono tante cose Ma vi voglio leggere Velocemente Se Se volete leggere Comunque L'articolo Per conoscere meglio Di questa chiesa Basta andare su Il sito qui Smallmon Punto wordpress Punto com E vedete Ok Andiamo a vedere Quello che è scritto Proprio Dentro Questi sono Tutti 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 i profetti Tutti i profetti Così Chiamati profetti Della chiesa Tutti i profetti Tutti i profetti La loro pelle Giovanni 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 è stato Dato la visione Del figlio Del padre Ok Come il suo colore Si trova nel libro di Apocalisse Capitolo 1 E versetto 13 Questo è un versetto Molto famoso Che leggiamo E andate a vedere E dice In mezzo ai candelabri Uno simile a un figlio D'uomo Vestito con una veste lunga Fino ai piedi E cinto di una cintura d'oro All'altezza del petto Il suo capo E i suoi capelli Erano bianchi Come lana candida Ok Lana candida Sono solamente I negri Che hanno I capelli di lana Ok Come neve I suoi occhi Erano come fiamma di fuoco I suoi piedi Erano simili Al bronzo Incandescente Arroventato In una fornace Il colore di bronzo Ok Arroventato In una fornace E il colore Dei negri Ok Andate a vedere I video che ho fatto In passato Che Gesù è un negro Ok La riuscirete a capire Ce ne sono tanti versi Delle scritture Anzi Se volete anche leggere Dal libro di Daniele Ok Già che ci siamo Libro Spero che questo è Daniele Sì Libro di Daniele E in capitolo 10 Il versetto 5 Che dice Alzai gli occhi Guardai ed ecco Un uomo vestito di lino Che è figlio del padre Yahweh Che il mondo Dall'ignoranza Chiama Gesù Che aveva Ai fianchi Una cintura d'oro Dufas Il suo corpo Era come crisolito La sua faccia Splendeva come La fulgore I suoi occhi Era come fuoco Fiammeggiante E le sue braccia I suoi piedi Erano come Il bronzo Ok Questo è il colore Del negro Ok Non è il colore Dei uomini Bianchi Come loro Ok Perdonatemi un attimo Che giro il telefono Ok Così Bene Ora Andiamo a vedere Questa cosa Che dice qui Che dice Nel terzo libro Di Nefi Capitolo 2 15 Che dice E fu tolta Da loro La loro maledizione E la loro pelle Divenne bianca Ok La pelle bianca Nelle scritture È una malattia Ok È una maledizione E questo Lo vediamo Nel libro Di Levetico Capitolo 13 Capitolo 13 E versetto 4 E dice Ma se la macchia lucida Sulla pelle bianca E non appare Essere più profonda Della pelle E i suoi peli Non sono diventati bianchi Il sacerdote Il sacerdote Isolerà Le persone Isolerà Per sette giorni Colui che ha La piaga Infatti Andate a leggere Questo libro E andate Iniziate a leggere Da versetto Da capitolo 12 Queste erano Perdonatemi Queste erano Le leggi Per coloro Per la pelle Ok Ma se non siete Nemmeno convinti Andiamo a vedere Il libro Di numeri Quando Miriam Ok Capitolo 12 Versetto 10 Che dice L'ira del Signore Yahawa Si accese Contro di loro Ed egli Se ne andò E la nuvola Si ritirò Di sopra Alla tenda Ed ecco Miriam Era lebrosa Bianca Come neve Lebrosa Bianca Come neve Avete visto Arone Guardò Miriam E vide Che era lebrosa Perciò Uno Con la pelle Bianca È lebrosa È una malattia Ok Arone Dice A Mosè Ti prego Mio Signore Non facci portare La pena Perdonatemi Non facci la perdona Portare la pena Di un peccato Che abbiamo Stoltamente Commesso E di cui Siamo colpevoli Ok Perciò Queste sono Le parole Del Padre Che vanno Contro La Bibbia E le scritture Che hanno Portato fuori I figli Dei mormoni Ok E in più Ce ne sono Tanti versetti Che tirano fuori Questa prova Qui Infatti Scientificamente Se andate a vedere Se prendete La DNA Di così Chiamato Negro È la DNA Di un puro Caucaso Vedete Che la DNA Del Caucaso È La DNA Neandatal Ok In inglese Non so come si dice In italiano Ed è quella Molto più vicino Agli animali Infatti Un Caucaso Non può Produrre Mai Un essere Di colore Come Un essere Scuro Come Il negro Ma il negro Invece Riesce a produrne Uno bianco Come Il Caucaso Ok E questo Vi dice La differenza Tra le due Genetiche Ok Cosa Cosa è la differenza Un'altra differenza Nella DNA Del negro È presente La melanina E nella DNA Del Caucaso Non è presente La melanina Ok Che è un difetto È un difetto Ok Beh Come dico sempre Tantissimi figli D'Israele Saranno bianchi Come il Caucaso Ok Perché i figli D'Israele Si sono mescolati Con tutte le nazioni E sono diventati Come loro Infatti Io ho un fratello Che facciamo Video insieme Che sembra Un Caucaso Ok Ma lui È israelita Ok La sua DNA Lo detesta Che è israelita E il suo spirito Lo detesta Che è israelita Ok Poi Quando Jehovah Shai Tornerà Ci farà tornare Nella nostra gloria Ci darà corpi nuovi Ok Ed è questo Una delle cose Che aspettiamo Del padre Jehovah Shai Del padre Jehovah Shem Jehovah Shai Ok E questo marchio Si è messo Anzi Andiamo a vedere Il libro di Genesi Capitolo 4 Versetto 15 Che dice Ma il Signore Dice Questo è Quando Caino Aveva ucciso Suo fratello Abele Ok Ma il Signore Jehovah Gli disse Ebbene Chiunque ucciderà Caino Sarà punito Sette volte Più di lui Il Signore Jehovah Misse un segno Su Caino Perché nessuno Trovandolo Lo uccidesse Ok E quale Questo segno Ha tolto La pigmentazione Della sua pelle Ok Ed è questo Stesso Seme Di Caino Che segue Che seguono I fili Di Esau Ok Io spero Che riuscite A capire Queste cose E Spero molto Comunque Tornando Facciamo Un repilogo Questi mormoni Sono tutto Basati Sui loro Tempi Ok Coloro Che vanno In chiesa E non Vanno In tempi Sono visti Come membri Minori Ok Nella chiesa Vedete E nei tempi Hanno Questi saluti Queste posizioni Delle mani Come i massoni Proprio come Fanno i massoni Queste sono Delle cose Che vi insegneranno Appena entrate Nel tempio Ok Questo È Un tempio Dei mormoni Vedete L'occhio Che vede Tutto Ed è L'occhio Là Che vedrete Qui È Quell'occhio Che vedete Qui Ok Sui massoni Sulla Mazzoneria Dicono Che è L'occhio Di lucifero Che vede Tutto Ok E tutti Questi segni Qua Lo vedrete Nel Tempio Dei mormoni Infatti Vi daranno Un grembiule Così Nel tempio Con diversi Segni E loro portano Una veste Sotto I vestiti E dicono Che li protegge Che loro Mamma mia Dovete venire fuori Da queste calunie Dovete venire fuori Da queste bugie Del mondo Figli di Israele Ok Ora Vi leggo Velocemente Il libro Di Sempreati Libro diati Atti Dei apostoli Capitolo 17 E versetto 24 Che dice Yahweh Ha fatto Il mondo E tutte le cose Che sono in esso Essendo il Signore Del cielo E della terra Non abita In tempi Costruiti Da mani D'uomo Ok E non è servito Dalle mani Dell'uomo Ma Se avesse bisogno Di qualcosa Lui Che dà Tutti la vita E respiro E ogni cosa Ok Il padre Non dimora Non abita Nei tempi Costruiti Da mani Degli uomini Ok Questi mormoni Sono tutti Concentrati Per questi tempi Da cazzo Perdonate Il mio francesismo Infatti Hanno fatto Ultimamente Il tempio Il tempio Il tempio Dei Mormoni Se scrivete Se scrivete I tempi Dei mormoni Sono piene Vedete Sono piene E questo è L'ultimo Che hanno fatto A Roma Ok Questo è il tempio Che hanno fatto A Roma Spendono Un sacco Un po' di soldi Per fare Questi tempi Qui Ok Ed è questo Il tempio Dove Vi ho fatto vedere Che c'ha Tutti i segni Satanici Ok Questo era Tra i primi tempi Che hanno Costruito Mi sei secondo O quello E là Hanno messo Tutti questi Segni Satanici E visto Che la gente Ha cominciato A capire Queste cose Qui Hanno cominciato A eliminare Questi segni Pian pianino Ok E vi faccio vedere Questo tempio Che hanno costruito A Roma Ok Che è questo E Anche loro Hanno La statua Di Cesare Bogia Dentro Ok Il La La statua Tempio Mormone Ecco Questo è il tempio Dei mormoni A Roma Come vedete Hanno la bella statua Di Cesare Bogia E tutti gli altri Apostoli Dietro Che sono Non sono altri Che le faccia Degli Edomiti Ok I falsi Ok Il figlio Del padre Non ha i capelli Lunghi Così Non è uno Caucaso È un negro Ok E non si può fare Queste immagini Ok Che sono le stesse cose Che fanno I cattolici Ecco Un'altra Bella vista Avete visto Hanno la statua Le cesare Bogia Ok Andiamo a leggere Dal libro Di Isaia Spero che sia Questo Capitolo 66 Si lo è E leggo da versetto Uno Che dice Così parla Yahweh Il cielo È il mio trono E la terra È lo sgabello Dei miei piedi Quale casa Potreste costruirmi Quale potrebbe essere Il luogo mio Del mio riposo Tutte queste cose Le ha fatte Le mani La mia mano E così Sono tutte E così Sono venute E così Sono tutte Venute All'esistenza Dice Il signore Yahweh Ecco Su chi Io Poserò Lo sguardo Su colui Che è umile Che ha lo spirito Afflitto E trema Alla mia parola Ok Chi scanna Un bue È come Se uccidesse Un uomo Chi sacrifica Un agnello Come se Accopasse Un cane Chi presenta Un'offerta Come se Offrisse Sangue Di porco Ok Il padre Dice Chi Può Renderlo Felice Ecco Su chi Io Poserò Lo sguardo Il padre Poserò Lo sguardo Su colui Che è umile Che ha lo spirito Afflitto E trema La sua parola Ok Colui Che obbedisce Qual è la sua parola I suoi comandamenti Ok E ricordatevi Sempre E E E E E E Scusatemi Qual è la parola Che non mi viene Adesso Il timore Il timore Del padre È l'inizio Della saggezza Ok La verità Non è in queste chiese Qui Sono 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 Chiese Satanici Per non dirvi Altro Che anche loro Ho fatto la mia ricerca Ho visto Che hanno la licenza A501 Tra parentesi C3 Fate Una ricerca Su questo Che viene dal Vaticano Ok E Sì Hanno questo accordo Di insegnare La bugia Alla gente Ok Di non insegnare Le scritture Come un libro Di storia Di un certo popolo Che è il popolo Di Israele Ok E Per chiudere Questa lezione Leggo dal libro Di Matteo Dal libro di Matteo Capitolo 7 E versetto Inizio dal versetto 13 Che dice Entrate per la porta stretta Poiché Larga È la porta E spaziosa La via Che conduce Alla perdizione E molti Sono quelli Che entrano Per essa Quanto stretta È la porta E angusta La via Che conduce Alla vita E pochi Sono quelli Che la trovano Ok Queste sono le parole De Padre Non state Non state Vi fare Non state Vi Non fatevi Inganare Da questi Tirani Qui Ok Bugiardi Fili di Satana Che girano Le scritture Ok Che vi scrivono Nel libro Dei Mormoni Che I bianchi Sono Il popolo Del padre E Hanno Hanno Fatto Delle più Porcherie Possibili Erano Poi tirani Questi uomini Qui Che hanno Creato Quella chiesa Lì Ok E con Tutti Questi tempi Che hanno Avete visto Vi ho fatto Vedere Io spero Che questa Lezione Vi possa Edificare Vi possa Aprire gli occhi A questi Fatti Che I veri Fili Del padre Sono Coloro Che appartengono Alla casa Di israele Israele Questi figli Sono I così Chiamati Negri Ok I nativi Americani E I così Chiamati Latini E Comunque Ricordatevi Sempre Che i figli Di israele Sono sparsi In tutto Il mondo Ok In italia Sono tantissimi In spagna Sono tantissimi In portugale Sono tantissimi Che erano Portati Schiavi Ok In europa Governavano Prima i mori Che erano Figli Di israele Ok E questi mori Si sono Miscolate Con tutte Le altre nazioni Anche con I figli Dei caucasi E si sono Nati Dei israeliti Di nuova generazione Con la cannagione E con la vista Come altre nazioni Come dei caucasi E sono questi qua Che Paolo Ha scritto In questi libri I libri romani Che ha Parlato di questo popolo Qui Ok Sono i figli Di israele E che cosa Detesta E lo spirito E quando lo spirito Crede a queste cose E crede Che il nome Del padre Non è Dio Non è nulla Non è Geova Non è niente Che il nome Del padre È Yahawa E crede Che il nome Del figlio Non è Gesù Non è Tutte Quelle Schifezze Di nomi Il nome Del figlio È Yahawa Shai Coloro Che credono A questo Ok Fanno parte Della casa Di israele Coloro Che osservano I suoi comandamenti Al meglio Nella loro Possibilità Ok Detto questo Lascio tutte queste parole Nel sacro nome Del padre Yahawa Bahashem Yahawashai Ok Bahashem vuol dire Nel nome Di Yahawashai Che è suo figlio Il nostro re Rendentore Ok Con lui Che ha pagato Il prezzo Per farci avere Questa conoscenza Per farci ritornare Alla sua casa Ok E detto questo Voglio dare I miei doppi onori Agli apostoli Anziani Della Great Museton Per avermi insegnato Questa verità Alla prossima Shalom Alla prossima